Start, 2, 1, installa, and lift off! Che è molto simile, insomma è stato fixato e rifixato. È giocabile? La mia risposta è sì. Che cosa si fa in questo gioco? È un qualcosa che so dirvi con un po' più di certezza. L'inizio del gioco, ascoltate attentamente, partirete con quest'auto. Quest'auto non si può guastare, per quanto voi possiate aggiungergli l'olio vi farà sparire la spia dell'olio motore. Non avete, penso, neanche modo di toccare nient'altro se non solo l'olio. Infatti poi la spia dell'olio vi si accenderà. Quest'auto dovete solo rifornirla di benzina. Rifornendola di benzina con la tannica, insomma, un po' di benzina ce l'avete, potete andare in città. Adesso a breve ci andiamo, prenderemo con la strada, ma perché non è bellissima, ma è abbastanza estesa. Il fulcro di questo titolo è sistemare l'auto che ci verrà data e che acquisteremo con i primi soldi che troveremo esattamente qui. Li prendiamo, col tab li mettiamo in inventario. Saranno circa 200-300 dollari. Andiamo dal meccanico, il meccanico che è là in alto, in alto a sinistra, dove vedete il simbolo del riciclo e dell'auto incidentata. Lo prenderemo da lì e lo porteremo qua. Il motore ha dei problemi. E quello che dovete fare, adesso poi vi porto giù a vedere, la prima cosa da fare, questo è un motore che vedete già un po' messo meglio, la prima cosa per poterlo accendere è mettere queste, diciamo, i cavi delle candele che vanno dallo spinta aerogeno. Quella è la prima cosa che dovete prendere. La seconda cosa che dovete prendere, che non avrà e vi impedirà di usare il furgone, il pick-up dopo qualche giorno, dovrete cambiargli, mettergli una ventola che non ce l'ha e il rotore e la cinghia della... Questo è il pacchetto iniziale. Dovete mettergli anche un filtro dell'aria. Il carburatore va bene, per quanto io ho sostituito anche quello. In realtà ho sostituito tutti i bilanceri e la parte del motore superiore e anche la guarnizione della testa. Queste sono le cose base che potete fare all'inizio del gioco. Ovviamente vi servirà denaro. E vedete che si accende subito rispetto a come si accende all'inizio del gioco. Allora, vi scopriranno anche le gomme, una dietro l'altra. Quindi, quando avrete i soldi, inizierete a sentire il rumore di trascinamento, poi esploderà, il veicolo diventerà incontrollabile, però riuscirete a guidare normalmente. E quando arriverete a destinazione e scenderete dal pick-up, noterete che giravate sul cerchio. Io l'ho fatto con una gomma, mi è successo sulla seconda, sulla terza, e poi alla fine abbiamo comprato la terza e la quarta, e infatti poco dopo esplosa anche la quarta. Quindi quella è un'altra cosa. Qua sono andato a sbattere. Perché un'altra cosa da dire su questo gioco è il fatto che, primo, vedete che si sta mettendo molto male per me, perché stiamo finendo lì sotto. La cosa che vi potrebbe spiazzare all'inizio è il fatto che non avete le marce, ma avete l'avanti e indietro e basta. Quindi il freno entra a sto spazio. Ma, siccome in questo caso vi bloccate, tipo l'auto non va avanti, potete prendere il telefono e premendo il tasto E dire trasporta me a casa, ma noi andiamo in città, e poi potremmo dirgli trasporta il mio camion in città. E quindi arriverà pure lui. Questa è una facilitazione che vi sblocca da tanti bug, quindi sarà sempre comodo avere qualche soldo dietro. Stiamo camminando lentamente perché? Perché non abbiamo mangiato né bevuto, quindi adesso andremo a mangiare e bere. E vi faccio vedere, ho speso anche parecchi soldi, vi farò vedere, ho speso 60 dollari, vi farò vedere quali sono le parti da acquistare all'inizio del gioco. Per guadagnare soldi, ci stavo arrivando prima di schiantarmi, adesso ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere un po' tutte le possibilità. Allora, adesso io vado qui, mangio, prenderò una pizza, la compro, e una cassa di birra. Pago, apro questo, e lo mangio, ne prendo una e la bevo. Ok, adesso, la prima cosa che dovete fare quando vi consegneranno il camion, il camion non si avvierà, la prima cosa è prendere, adesso devo trovare il punto giusto, non è questo, perché ci sono fondamentalmente due motori, il motore base a quattro cilindri, e il motore V8. queste sono le parti che vi interessano qua in fondo, potete cambiare anche la cover, ma chi se ne frega, io ho comprato anche questi due, ma la primissima cosa da prendere, vabbè, il carburatore no, questo, il filtro dell'olio, e scusate, non il filtro dell'olio, il filtro dell'olio c'è già, il filtro dell'aria, prenderete il filtro dell'aria, e poi, devo trovare dov'è, potrebbe non esserci, questo, eccolo qua, le plug wires, i tubi, i cavi delle candele, dopodiché, la cosa che dovete cambiare dopo, è questa, la fan clutch, quindi la frizione, diciamo, della ventola, e questa, la fan normale, la ventola, quello che potete prendere, ovviamente poi, non vi obbliga nessuno, però potete farlo, la belta per cambiarla, e volendo anche la fan pulley, però, di base, credo che questi due qui bastino all'inizio, che li montate davanti al, motore, e vi raffredda, perché vedrete che vi salirà, la temperatura della, dell'acqua, del refrigerante, in modo molto veloce, quindi questi sono i fix da fare all'inizio, dopodiché, potrete cambiare le gomme, le gomme le potete cambiare, fin da subito, prendendo il piede di pocket, togliendole dal cerchio, o più semplicemente, quando esploderanno, venite qui, comprate le gomme base, che sono queste, le standard, e le montate, lo scopo del gioco, è quello di poter montare, costruire, magari prima, farlo sul ponte, sulla caparetta, come si definisce, un vuoto completo, per poi andare a montare, dei cerchi, più grossi, delle gomme, più grosse, dei differenziali, che sono qui, più potenti, e andare, nelle zone, quelle sterrate, sono le strade marroni, perché? perché ci sono diverse attività, che potete fare, e vi mostro, molto velocemente, le cose che si possono fare, per guadagnare i due soldi, la prima cosa che si può fare, che è la più remunerativa, che tra l'altro, credo l'auto, sia guasta, perché non si muove, questo è un gran bel problema, no, ma secondo me è finta la benzina, sono stato pirla io, e allora, la prima cosa da fare, è, adesso vediamo se riesco a, no, eh non riesco, mannaggia, se io dicessi di trasportare, il mio, alla seconda home, no, ecco, la cosa più semplice, che potete fare, è prendere questi, ops, elettrodomestici, la prima cosa da fare, è, e portarli al, ok, adesso funziona, non so il motivo, ma probabilmente è un bug, allora, la prima cosa, la più remunerativa, che potete fare, è prendere, questi elettrodomestici, che trovate lungo la strada, che si generano continuamente, e, eh, potete portarli, alla discarica, eh, così come, la cosa subito dopo, è, eh, tagliare gli alberi, quelli che vedete, in questo caso, vi faccio vedere, sempre che non mi parta via il fulgone, quelli che vedete, con il simbolino, rosso del taglio, prendete la motosega, che adesso non ho qui, ho lasciato a casa, li tagliate, a pezzi, e li portate lì in alto, su lì, di fronte proprio al chioschetto qua, li portate lì, vi pagano 20 dollari a pezzo, mentre per questo, ve ne danno 100, ma, c'è una terza possibilità, sto finendo la benza, però, quindi, direi che andiamo a fare benzina, prima cosa, andiamo abbastanza tranquilli, tanto non, non c'è nessuno, non è esente da bug, e l'abbiamo visto, insomma, il gioco, allora, apriamo, e facciamo la benza, ok, direi che può bastare, si può pagare, qua dentro, paghiamo 15, perfetto, un po' di benzina l'abbiamo fatta, così evitiamo di restare a piedi, chiudo qui, e, dicevo, trasporto delle name lì in alto, trasporto del, uuuuh, cosa vedo, trasporto delle name lì in alto, trasporto degli elettrodomestici, alla discarica, vediamo se dovrebbe starci tranquillamente, e, ultima cosa, è caduto, eh sì, è caduto, quindi niente, dai, lo rimettiamo a posto, a me piace tantissimo, amministrare queste cose, non, cosa fare, mi sta anche partendo via la macchina, quindi vediamo di farlo in fretta, prima che mi esploda tutto, l'appoggio qui, l'ultima cosa da fare, che si può fare, per guadagnare, non è molto remunerativo, è leggermente meno, la metà remunerativo rispetto alla legna, girare per questa città, tra cui c'è, anche una casa in fondo, che possiamo acquistare come seconda casa, quindi avere una vicinanza maggiore rispetto alla città, i sacchi della spazzatura, li prendiamo tutti, e poi li portiamo alla discarica, che è la stradina che va di là, quella che sale verso l'alto, col simbolo del, del, del cestino, della, della spazzatura, ecco, il trasporto della, di quella ce ne sono sempre tantissimi, quindi potete far più viaggi, e racimolare qualche soldo, quindi, ricapitolando, voi potete, in questo caso, portare, questa è la più remunerativa, quella che sto facendo adesso, il trasporto dei rottami per il riciclo alla discarica, voi portate la roba qua, la depositate nell'area qui, e dopodiché entrate all'interno, e pagate, e pagate, e ricevete i soldi, scusate, da lui, quindi cliccate su di lui, con la E, e vi da i soldi, ovviamente voi li prendete, in questo caso ne abbiamo presi 200, no, di più 300, 429, quindi, un bel po' di soldi, stessa cosa, fate buttando il legno, il legname, dentro il container, di metallo, in alto, oppure, buttandoli, andando alla discarica, i sacchi neri, in un container, della spazzatura, qua la discarica, che abbiamo appena lasciato, potete anche recuperare, dei pezzi, pagandoli ovviamente, a un prezzo, un pochino più basso, rispetto che al magazzino, dove abbiamo visto prima, i pezzi, appunto, che magari, vi possono servire, per riparare la macchina, ma, ci sono altri due metodi, per fare due soldi, ovviamente, tutto in base al caso, potete, o andare qua dentro, e comprarvi un grattevinci, al, al barretto, o là in fondo, adesso vi faccio vedere, che giriamo la macchina, qua, lì giocano a poker, quindi, vi giocate al Texas, all them, e se sbancate tutti, ottenete 2000, è molto difficile, ma, ce la potete fare, ma tutto questo, perché, perché dobbiamo, assemblare, un pick up, più potente di questo, con delle ruote motrici, con della possibilità, di andare ovunque, di qua e di là, perché, adesso vi faccio vedere, che giocherò a un grattevinci, perché, perché, ci sono delle missioni, che possiamo prendere, e vedete che sulla mappa, ci sono, allora, c'è il punto, in basso a destra, col piccone, lì potete minare il ferro, e per arrivarci, vi serve, un fuoristrada molto potente, mentre, vedete, vabbè, c'è la torre idrica, piuttosto che, altre antenne, quelle antennine, vicino a, sempre in colore scuro, ma non è scuro, quelle, sono un'altra questa, andare ad attivarle, e anche lì, viene richiesto, un mezzo molto potente, per salire, oltre che, se guardate, sulla destra, non riesco a indicarlo, ma, sopra il piccone, c'è un fiume, sopra, sopra, quello azzurro, lì c'è una stazione, di buzz, cioè per produrre, il, il liquore, come si faceva, in Mice & Mercar, quindi vi servirà il gas, vi servirà una batteria, di alimentazione, di quelle delle auto, e lì potete produrre, il liquido da vendere, comprando, il lievito, lo zucchero, un po' sullo stile, Mice & Mercar, e anche lì, è una strada molto impervia, e vi serve un mezzo adeguato, fine, questo è il grattevinci, se trovate tre simboli, dello stesso, vincete, in questo caso, abbiamo vinto 10, se trovate, 250, o, o, 2, 10, prendete 60, se li trovate entrambi, io adesso ne compro un altro, gratto ancora, vedete potete vincere fino a 10, meno in questo caso ho vinto 3, quindi ho vinto 10, non ho perso nulla, e qua potete andare avanti le ore, perché, si vince spesso, si perde di rado, ma difficilmente ci si arricchisce, oddio, poi se perseverate, magari, un 50 o un 250, le tirate su, però è difficile, 10, 10, 10, continuo a vincere, però insomma, questa è, poi se ve lo state chiedendo, no, lei non ha le gambe, è, all'interno, si è sporcato, possiamo lavarlo, ovviamente, il nostro furgone, e, questo a grandi linee, è quello che si fa all'inizio, non ho ancora sufficienti soldi, per pensare, di montare un V8, un motore nuovo, ma, a breve potrei cominciarlo, ovviamente, non in sostituzione a questo motore, questo lo tengo buono, finché dura, però tenete conto, che questo vi dà, il vantaggio di, eh, poter trasportare, grossi carichi, avendo il pick up, avendo il cassone dietro, l'auto non si rompe mai, però, eh, il problema, è che non trasporta niente, forse incastrate un elettrodomestico, sulla rietro, però, non, nel baule, ma non ci fate, anche, dovete fare sempre attenzione, a questo punto qui, che se finite lì sotto, dovete chiamare aiuto, perché non venite più su, e, che altro dire, questo furgone, in pick up, vi lascia a piedi, può lasciarvi a piedi, però la mappa, non è grandissima, se, rimanate a piedi, in mezzo alla strada, su My Summer Carre, erate morti, quindi, insomma, si pone a metà, tra un, My Summer Carre, e un Mombazoo, dove un Mombazoo, è ottimo, per tutto quello che riguarda, non i motori, perché sui motori, è molto superficiale, in questo gioco, potete avere due, pick up, da quello che ho visto, ne hanno aggiunto un secondo, ma anche su, un Mombazoo, quindi, insomma, sono due bei giochi entrambi, ovviamente, questo è, più motoristico, di, Mombazoo, lo ha in meno, però di My Summer Carre, però, insomma, vedete che, qua, di cose da fare, ce ne sono, e, poi imparerete, anche i tasti, insomma, quindi, si prende questo, si collega, e si accende il robinetto, e si va a lavare, però, credo, che non sia sporco, è proprio, boh, sì, poi, non è il massimo, della precisione, il gioco, nel senso che, se poi, rompete, vi si rompe qualcosa, seriamente, a livello di, di carrozzeria, vi si ripara, quando è rientrato, in partita, tuttavia, c'è il saldatore, che non ho ancora capito, cosa serve, ma, il gioco vi viene, potete comprare il filo, insomma, le stecchettine, per saldare, ma non so ancora l'utilità, comunque, il gioco vi offre, questa guida, dove vi spiega, tutto, l'assemblaggio del motore, quindi, se volete, assemblarlo, è molto basilare, molto semplice, non ci sono viti, da collezionare, da evitare di perdere, quindi, insomma, questo è, il gioco, e, avete poi, tutte le varie cose di liquido refrigerante, l'olio motore, l'olio della trasmissione, potete colorare la macchina, io l'ho fatta verde, e, niente, potenziare l'auto, per raggiungere le zone più impervie, e, ovviamente, fargli manutenzione, perché il motore si rovina, tenete conto, che io avevo cambiato questa parte, come vi ho detto, la base della, della ventola, e si è arrugginita, così come ho preso il filtro nuovo, e si è arrugginito pure lui, quindi sta succedendo qualcosa al motore, non è ottimizzato, anche perché il blocco motore sotto, secondo me, va cambiato, perché ho cambiato tante parti all'interno, si sta anche arrugginendo, però non ho cambiato la distribuzione, dentro qui ci sono le varie, i vari ingranaggi da poter cambiare, quindi, insomma, questo è, junkyard track, dopo un anno, non è un gioco capolavoro, diciamo che mi ha appassionato di più, per quanto riguarda le auto, My Summer Car, e per la sopravvivenza, la vita, Mombazoo, ma, se li avete già spolpati entrambi, è il gioco che viene subito dopo, c'è poco da fare, quindi, lo miglioreranno, sicuramente, a parte il bug che è successo prima, che non so ancora spiegarmi, vi faccio vedere solo, un'ultimissima cosa, in questo pseudo tutorial, su come cominciare, ma in realtà, non credo di potervelo far vedere, perché ho perso la motosega, la motosega, se perdete qualche oggetto, finisce agli oggetti smariti, quindi, lo ritrovate in città, praticamente, no, non posso farvelo vedere, perché non c'è, non ho perso la motosega, niente, però, hanno sistemato, diciamo, le criticità del gioco, nel senso che, quando perdete qualcosa, andate in città, lo trovate, a fianco del meccanico, in città, di fronte al magazzino, dove comprate i pezzi, quindi, in sintesi, cosa succede? Con la motosega la accendete, dovete rifornirla di miscela, vi avvicinate, e fate, vedete questi solchi qui, che ci sono, gli passate a filo, fate il giro, avanti e indietro, e ve la taglia, poi ve la fa tagliare in più parti, vi diventano dei blocchi, dei tronchi, li caricate su baule, e li portate via. Quindi, insomma, questo a grandi linee è, junkyard track, fatemi sapere che cosa ne pensate, di questo mini tutorialino, su come cominciare, e noi ci sentiamo, in un prossimo video game play, alla prossima, e ciao ciao.